Tutti i stress che esistono nei materiali, anche senza l'applicazione di qualsiasi esternale, sono termini di stress residuali. Stress residuali possono esistere in un componente e naturalmente aggiungere ai stress induziti da imparati. Il Reston MTS 3000 è un dispositivo automatico per mesurare stress residuali dal metodo drilling string gauge, in accordo con l'ASTM 837 standard. Il MTS 3000 è potuto mesurare i stress residuali in metalli e altri tipi di materiali, tanto nel laboratorio e sul sito. Il sistema è composto da una fixtura meccanica-optica e un dispositivo elettronico con un set di accessori e parti spare, principalmente turbini e drilli. Il turbine di high-speed, per 100.000 rondi per minuto, evitando di introduzire nessun stress residuali nel materiale durante il processo di drilling. Inoltre, diversi tipi di drilli sono disponibili, basati sulle proprietà del materiale per essere testati. Per l'acquisizione di valore, un amplificatore digitale è usato e un software dedicato permettono il sistema completo e la calcolazione dei stress residuali, iniziando dal misurato strano. L'installazione di software e la connessione di sistema sono molto semplici. soltanto bisogna aggiungere alcuni cable e riuscire il sistema. Dopo aver posizionato e aggiungato il strano, puoi mettere il MTS-3000 in posizione e centriare l'acquipamento con il strano per il microscopio ottico. Il sistema è possibile detectare la superficie automaticamente, per un contatto elettrico. In questo modo, avrai un punto perfetto del testo perfetto. Prima di iniziare il misuramento, puoi chiuscire alcuni parametri custom, come total depth, number of steps in their distribution, material properties, type of strain gauge and amplifier, and delay time between the steps. The test is fully automatic, with real time visualization of the strains relaxed during the test. This automatic process ensures very high reliability of your measurement. si Grazie a tutti. A fine della misura il sistema si stoppa automaticamente e puoi mesurare il diametro e salvare i risultati. Poi puoi aprire l'eval back-calculazione software dove puoi calcolare i stress residui in accordo con gli algoritmi diversi, anche per esempio l'ASTM 837 standard. Le nuove e-val future include powered 3D graph and automatic test report function. Grazie a tutti.